Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso profonda preoccupazione per il colpo di Stato militare in Myanmar, ma non è andato oltre una condanna. Il problema è, come spesso accade, la selva di veti incrociati al Consiglio di Sicurezza. Cina e Russia, che esercitano il veto e che sono i principali sostenitori del Myanmar al Palazzo di Vetro, hanno chiesto più tempo per affinare la risposta del Consiglio. I membri del Consiglio di Sicurezza hanno espresso profonda preoccupazione per la dichiarazione dello Stato di emergenza imposto dai militari il 1 febbraio e la detenzione arbitraria di membri del governo, tra cui la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Mint e altri. La missione cinese all'ONU ha affermato di aver contribuito al miglioramento del testo. La leadership comunista ha adottato un approccio non conflittuale al colpo di Stato e l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua lunedì ha descritto il colpo di Stato come un grande rimpasto di governo. Il Myanmar è una parte vitale dell'enorme iniziativa infrastrutturale di Pechino, una delle innumerevoli vie della seta che il gigante asiatico ha costruito nel mondo per solidificare la propria potenza economico-commerciale.